ehi ragazzi sono io non lo zero due the best volete un altro video oggi bene allora incominciamo in questo nuovo video bene eccolo incomincia adesso ciao ragazzi eccoci in questo nuovo episodio su minecraft bene sto cercando di contattare il secondo youtuber il video precedente al 5 iscritti ora siete in sei iscritti quindi sto cercando di contattare sto youtuber e per fare un video insieme con un gioco che non ve lo posso dire incominciamo con minecraft e oggi volevo volevo fare la casa vediamo dipende se troviamo un terreno buono vi volevo dire che già ho trasformato la legna in cose i blocchi in assi di legno facciamo allora fino a un po un po su dove fare questa casa qua sembra ideale ma ma come casa non starebbe però 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 si può utilizzare questo terreno è strano perché è compatto boh si può utilizzare tipo tipo per lavorarci in deposito di risorse di cibo non lo so vabbè dipende quanti tipo io lascio due se sono 20 ok perché volevo fare una casa di 20 e 20 due quattro 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 io questo questo un po' sono qua, l'identità sono qua 15, 14 13 e però sono arrivato togliamo quel blocco che è 14 lo facciamo di 13 facciamo un deposito di risorse oggi nei prossimi video faccio perché adesso pausa e continuo questo deposito di risorse a costruirlo e quando avrò fatto potrò mettere casse a crafting table qualche fornace e poi dopo aver finito questo farò una casa lo so che sarebbe voi mi installate qui ma che lascia perdere sto coso di risorse è meglio farsi una casa e poi questo se ti serve se proprio ti serve fai questo questa costruzione ma no intanto io dico che è la stessa cosa sarebbe più comodo a fare la casa la casa però è come se fai la stessa cosa perché se fai quello o fai quell'altro basta che metti un letto da una parte qua dentro e poi metti le case e ti piace un attimo qua vabbè poi rimanete sempre nella stessa casa però vabbè e abbiamo fatto la base l'entrata dove la facciamo 1 2 3 4 5 6 7 lo facciamo qua lasciamo aperto lasciamo aperto 1 2 3 4 5 6 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 12 12 12 13 13 14 15 14 15 15 15 15 16 17 18 20 20 21 21 22 23 23 25 25 23 23 24 26 28 31 31 32 32 32 32 I do not like the leafy's under my diamond fence It couldn't be a long time I feel like I won't be blind I know right, I know I'm not allowed to design I don't know if it's like that, right? I don't know, I'll be okay I can dream of the rest of it It's just a lot of touch of faith that we're okay It's sure it's this first time It's sure it's this first time It's sure it's this first time It's got riots in so far Oh I turn my head to the sky I'll be smiling all the time I do not like the leafy's under my type of fancy It couldn't be a long time I feel like I won't be blind I know right the time Now I'm not allowed to design Sure, it's this first time Sure, I'm not allowed to design It's different It's good right But it's so far I turn my head to the sky I'm not allowed to find But it's fine Why do I not even air Please open my time Not to make it turn I feel like I'll be fine I feel like I'm not allowed to design Grazie. 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 Io ora vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao gente.